Nel primo tempo la sensazione è di una squadra che ha bisogno di rodaggio. Metà dei titolari sono nuovi e nonostante il dominio sul possesso palla manca l'ultimo passaggio. Muro e Tomasi si muovono bene ma hanno pochi spazi. Le sportellate del primo tempo portano allo 0-0 col Terralba pericoloso in una sola occasione. Nella ripresa si vedono perfino lampi di bel gioco. Gli ospiti calano fisicamente mentre la Tarros sale. La difesa 4 è ermetica. Costella ha anche la palla giusta per il vantaggio ma la sciuppa. Il comunale, circa 500 gli spettatori presenti, esplode comunque poco dopo. È il minuto 67. Il protagonista è Daniele Muru, pistolero con le polveri decisamente meno bagnate del Piontech rosso nero. È il simbolo della nuova Tarros, quella che non ha nascosto il suo obiettivo e che alla prima non ha steccato.